Huawei P Smart 2019 appena presentato qui a Milano è un dispositivo della fascia media di Huawei il prezzo è 249 euro e la versione aggiornata di Huawei P Smart quello presentato praticamente l'anno scorso si caratterizza per un nuovo processore questa volta abbiamo il Kirin 710 processore a 10, 12 nanometri velocità che dovrebbe essere maggiore rispetto naturalmente a passato abbiamo avuto modo di provarlo e testarlo su altri dispositivi della fascia media di casa Huawei e sinceramente ci siamo trovati molto molto bene andiamo a vedere un po' come si comporta dal punto di vista delle prestazioni già vedete sembra veramente molto molto fluido quindi veramente apprezzabile da questo punto di vista che cosa dire di più? fotocamera da 13 megapixel abbiamo 3 gigabyte di memoria RAM doppia fotocamera posteriore colore bellissimo veramente fantastico quindi da questo punto di vista non possiamo che esserne entusiasti abbiamo poi naturalmente il notch piccolino nella parte superiore che altro menu da solita interfaccia MI 9.0 di Huawei vediamo qual è il sistema operativo eccolo qua 9.0.1 Kirin 710 64 gigabyte di memoria ROM risoluzione full HD faccia di sicurezza giornata novembre 2018 versione del kernel 4.9 vabbè questo non ci interessa per il resto il dispositivo sembra scattante veloce immediato repentino fulminio 249 euro il prezzo interessante considerato che è un bello speaker presente in bundle e considerato il fatto che avremmo avere anche un buono di 149 euro dove lo vedete all'interno del link completo che troverete in descrizione con tutte le informazioni anche riguardo alle specifiche tecniche vi lascio con giusto qualche immagine di questo smartphone ciao a tutti da Gianluca da Milano ciao ciao